In Italia, oltre il 50% delle persone affette da diabete dice di soffrire lo stress della malattia. Secondo lo studio internazionale Down 2, realizzato dalla Federazione Internazionale del Diabete, il paziente diabetico italiano è anche quello più depresso rispetto a quanto rilevato negli altri paesi europei. I pazienti diabetici sembrano quindi soffrire di un forte disagio sociale, con un impatto anche sui familiari e gli operatori sanitari. Uno degli strumenti che potrebbe migliorare la loro condizione, come dimostrato da importanti studi clinici, potrebbe essere quello di diffondere la pratica del monitoraggio remoto, migliorando la qualità della terapia. La possibilità invece di un controllo in remoto, quindi la possibilità di utilizzare i sistemi di telemedicina per un contatto più frequente fra la persona che soffre di cronicità e il sistema sanitario, sicuramente è un'arma in più, proprio per facilitare il contatto, il dialogo, il colloquio fra la persona e gli operatori sanitari, permettendo quindi uno scambio di informazioni, un invio di dati dalla persona alla struttura sanitaria molto più frequente, in base poi alle necessità e alle peculiarità del momento specifico che la persona si trova a vivere con la propria cronicità. Il monitoraggio in remoto può essere fatto per diversi parametri, diciamo così, biologici o fisici. La cosa più semplice è avere la possibilità, attraverso delle applicazioni specifiche, di garantire un trasferimento di dati, ad esempio, dell'automonitoraggio della glicemia in tempo reale. I vantaggi sono tanti anche per gli operatori sanitari, perché innanzitutto, di nuovo, hanno la possibilità di monitorare in tempo reale l'andamento di determinati parametri per i propri assistiti. Alcuni di questi strumenti, ad esempio, permettono anche di generare dei sistemi di allarme, quindi qualora la persona con diabete, ad esempio, soffrisse di episodi di ipoglicemia frequenti o di episodi frequenti di iperglicemia marcata, il medico ne verrebbe messo immediatamente a conoscenza, quindi avrebbe la possibilità di agire immediatamente, senza dover aspettare i canonici 4-6 mesi che intercorrono fra una visita e l'altra.